The Woman and the Man Nicky Giovanni, all'anagrafe Yolan Cornelia Giovanni, 1943, scrittrice statunitense, in The Woman and the Man, dice La maggior parte di noi ama in virtù della nostra esigenza di amare, non perché trova qualcuno che meriti di essere amato. Commento Chi ama non bada alla qualità di chi ama, così ognuno merita di essere amato.